ciao allora oggi voglio parlare di questo contorno occhi del libro che della linea è il roll on contorno occhi illuminante rughe e luminosità con erbe cristallina detto pianta della vita allora il prodotto che è un 15 ml ho segnato il prezzo qui viene 16 euro e 95 per un prezzo scontabile quindi con le promozioni periodiche in negozio oppure online si può trovare un prezzo scontato io ad esempio ho preso quello sconto del 40 per cento quindi l'ho pagato poco più di 10 euro come si presenta allora prima cosa positiva il pack del libro che è che ha le istruzioni all'interno quindi non da a sprecare carta poi la confezione è questa e il roll on eccolo qui è a forma squadrata fetta con tre microsfere che già al tatto sono fredde di loro sono proprio fredde quindi perfette per andare a decongestionare il contorno occhi allora prima di tutto le sfere microsfere sono perfette alla mattina per andare a decongestionare voi vedete la forma che proprio va in tutto il contorno occhi è anche piacevole sono già fresche di loro quindi va a decongestionare e se abbiamo delle rughe o delle borse alla mattina dovute al sonno e le va a come si dice fare orientare quindi rimpicciolire fa meno visibili e alla sera per decongestionare dopo che siamo stati tante ore davanti al computer oppure comunque con la luce poi il buio decongestiona che è una meraviglia veniamo ora alla texture perché la texture è particolare ma aspettate che io ho fatto una clip dove ve la mostro allora come avete visto è un gel fluido leggero ne basta per il contorno occhi molto meno di quello che ho applicato io effettivamente sulla mano voi vedete che già da solo è illuminante quindi va a dare subito luminosità allo sguardo applicata in combo quindi si applica con questo roll che quindi è fresco già il gel è fresco va a decongestionare ancora di più e quindi sia la mattina ed è appena sveglio oppure alla sera è molto piacevole per il periodo estivo e magari mettetelo in frigo che così è ancora più fresco quindi va proprio a fare un effetto lifting immediato sul viso il gel fluido intanto non è profumato ed non va a ritare i contornocchi che è una zona molto delicata ma non ha profumo ed è testato poi comunque sia è leggero e assorbe molto velocemente quindi davvero passate con questo due o tre volte ed è già assorbito è perfetto sia la mattina da applicare come base come base prima del trucco perché non va assolutamente a disturbare i make up occhi oppure anche da applicare da solo perché comunque sia come già detto decongestiona e illumina quindi da subito una luce diversa allo sguardo anche senza andarsi a truccare e alla sera comunque va a idratare ed è rinfrescare e quindi è piacevole anche alla sera vedendo dunque vediamo se mantiene le promesse allora rughe e luminosità luminosità sicuramente sì perché come ho detto è illuminante ed è queste microsfere è illuminante il gel all'interno quindi è illuminante ed è fantastico sul fatto di rughe sinceramente io non ho tanto questa grande differenza certo è che andando a decongestionare parola del giorno è decongestionare andando a decongestionare e comunque sia a rendere meno visibili tutti i segni di espressione combatte un pochino anche su questo fronte però è più un effetto ottico che effettivo non va a fare un effetto filler non va a riempolpare non va a non fa niente di tutto questo ma otticamente i segni di espressione non troppo marcati ovviamente sono già più distesi otticamente solo visibilmente insomma certo è che comunque è idratante quindi va a tenere idratato il contorno occhi e quindi combatte la comparsa dei segni di espressione ed eventuali rughe questo sì preventivo però non è proprio l'effetto anti rughe mirato ma è illuminante quindi è perfetto e io aspettate ho preso paura perché nel mentre c'è una cimice quindi aspettate che la prendo ok allora pausa cimice a parte ho preso paura ho guardato un attimo e c'era qualcosa che inzampettava dove eravamo rimasti? ah l'ho presa e l'ho portata fuori dalla finestra sta benissimo ed è non ho problemi con le cimice è solo il fatto che sono un po' antipatiche però comunque le prendo e le porto le accompagno fuori non mi danno problemi di questo tipo dove eravamo rimasti con il contorno occhi sto pensando e comunque intanto ve lo faccio vedere che è questo questo qui con l'applicatore lo preferisco soprattutto nel periodo estivo perché va a rinfrescare, decongestionare e poi quando non vado ad applicare troppo trucco quindi non vado con correttore fondotinta ed è ode e lo preferisco sinceramente è un prodotto che per il periodo primavera-estate anche in primavera soprattutto quando con l'allergia ho sempre gli occhi gonfi questo aiuta tantissimo e ve lo consiglio in questi momenti davvero fantastico fa il suo lavoro comunque fatemi sapere se avete provato questo prodotto o se va incuriosito e se vi sono stata utile e salutiamo anche la cimice e comunque sia se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così vedete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ciao